L'ultimo arrivato in casa Pescara, Aristidi Colai, Aristidi partiamo da qualche settimana fa perché si diceva che è impossibile che viene a Pescara, vuole solo la B, poi invece cosa è successo? No, io non ho mai pensato questo, è normale, l'anno scorso ho fatto un campionato di Serie B e magari stavo cercando di capire un po' le situazioni, poi appena è arrivata la chiamata del Pescara non ci ho pensato due volte perché comunque è una piazza importante, qui si respira l'area di Serie B quindi sono venuto qua per fare bene e mettermi in gioco Contratto triennale, c'è l'opzione per il quarto in caso di Serie B, significa che il Pescara punta molto su di te? Sì, ho visto che comunque c'è stato un interesse forte quindi anche quello mi ha spinto ad accettare la richiesta e sì, abbiamo l'opzione per il quarto anno sperando di poterla esercitare Andiamo un po' in là con gli anni perché nel Sassuolo giocavi con Raspadori, con tutti i giocatori più forti in maglia nero-verde il sogno tuo è ritornare lì un domani chissà? Diciamo che è il sogno di ogni ragazzo poter fare quel calcio lì comunque sì, ho avuto la possibilità di confrontarmi con gente forte e niente, sono contento dei loro percorsi, io sono qua a fare il mio percorso e spero di poter fare il meglio possibile per la squadra Si è arrivato come trequartista però con te in campo Colombo è passato al 4-3-2-1, dove preferisci tu? Io sono un trequartista esterno quindi dove mi farà giocare il mister io mi metterò a disposizione però il mio ruolo è sempre stato trequartista esterno Con il vizio del gol perché con la Pro Padre hai fatto anche 6 reti se non ricordo male in C2 anni fa Sì, ho fatto qualche gol, comunque il mio obiettivo è far bene, se arrivano i gol è ancora meglio